buonasera amici di milaniside eccoci qui in un nuovo video questo è un video breve giusto per aggiornarvi che il minan ha raggiunto l'accordo con il celsi per il riscatto di fikaio tomori il club rosso nero è pronto a versare nelle classe del club londinese 28 milioni di euro alla cipa attuita al momento del prestito del difensore inglese un'operazione che fa felici tutti i tifosi rossoneri finalmente il minan avrà a disposizione per i prossimi anni un difensore forte un difensore completo è un difensore che potrebbe dare quella stabilità difensiva al club che finalmente dopo anni e anni è tornato in champions league vi invito a passare in descrizione dove troverete tutti i nostri social ci aggiorneremo presto con altri video di calcio a mercato sempre forza mina un saluto